Un laboratorio di fabbricazione di calzature è completamente sconosciuto al fisco, gestito da un imprenditore che nel tempo ha impiegato 28 lavoratori in nero e 9 irregolari. Questo quanto scoperto dalla Guardia di Finanza di San Giovanni Valdarno. Nei confronti dell'imprenditore sono state così elevate multe per violazioni alla normativa sul lavoro, pare a oltre 200.000 euro. 7.200 euro è infatti la sanzione minima prevista per ciascuno dei 28 lavoratori in nero. Ma non solo, sono stati contestati redditi non dichiarati per circa un milione di euro, violazioni all'IVA e in materia di ritenute sui redditi del lavoro dipendente per 300.000 euro. Un circuito truffaldino che ha consentito di abbattere notevolmente i costi aziendali, praticando in tal modo una concorrenza sleare rispetto al distretto della moda. Non si tratta purtroppo di un caso isolato in provincia di Arezzo. Da inizio anno le Fiamme Gialle, in collaborazione con l'Ispettorato Territoriale del Lavoro, hanno individuato ben 113 lavoratori in nero ed irregolari. Nel corso degli interventi è stato anche individuato un minorenne di origine bengalese impegnato nella lavorazione e saldatura di metalli preziosi. Sono stati poi scoperti, sempre dalle Fiamme Gialle, due soggetti clandestini impiegati, anche in questo caso, in un laboratorio orafo. 11.000 euro. Spese per aver impiegato forza lavoro irregolare in percentuale superiore al 10% del totale dei dipendenti dichiarati in violazione, dunque, alla specifica normativa lavoristica.